ecco e c'era la versione anche del mondo sony che si chiamava playstation all stars battle royale e c'era tutti i personaggi sony ok e tipo natan drake kratos e company e tipo ovviamente no se assisi ok in quel senso ha preso per l'oggetto la giungla ma che se l'accorgono adesso io ti prendo la io non sto a prendere l'oggetto la giungla io non riesco a clearare il campo da solo sono singed faccio niente io rubo con uno smite al massimo ma come sono incazzate adesso ma non si sono corti nulla di nulla prima assurdo hanno guardato tutto già devastante passiamo da sotto tipo da qua mamma mia sti tipi vabbè dicevi di sti personaggi e insomma ero a casa di cugino rap che l'aveva preso lui e avevano tutti i parenti iniziato a giocare già pronto tutti i personaggi così e alla fine io tra i vari personaggi ho scoperto c'era sly cooper non so se è presente il personaggio lo conosco il procione esatto e tipo niente lo giocavo era tipo lo sciacco del gioco che si diventava invisibile se trasporta queste cose qua e niente l'ho trovato sbroccato tipo vincevo ogni partita vai però perché mi stanno tutti inseguendo scusami è stato un bel problema questo mi stanno davvero ancora inseguendo è stato un bel problema quanto veleno si è presa quella vediamo se riesco a invadere qualcosa qua si ma non devi fulmentare eh bro è per qualche motivo ho cliccato il ghost al posto dello smite e lo smite al posto del ghost ce li ho messi bene però ah stavolta è la te si ma mi lasci uno v2 contro questi ma tu non devi stare a bot dobbiamo invadere vuoi evitare che ci bannassero gli account ma no eh sì questi stanno con l'asciugamario 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 io non posso venire a farmi campi sono singed non c'ho l'acqua che toglie 400 danni puri e si refulla eh vieni con me non lo so bene poi singed jungle è meta ma questo mi ha flacciato la palla di uno non riesco a farlo io che si fa? ah facciamo il red facciamo il red ah ok quindi facciamo proprio full hinting anche i nostri compagni benissimo senti io ho paura che ti stai esagerando devi fermarmi tu nel caso sì se no tranquillo tanto voglio dire streaming dei dar eh mi raccomando dei dix ra ra et partner eh riot partner ma queste cose le faccio anche a master eh riot partner chi che trovi è solo un modo innovativo di giocare a league le risorse sulla mappa sempre quelle sono chi ha detto che devo stare a botte scusami ah no certo quello si può andarci bene prendo un po' di livelli perché tanto se no non posso fare nulla qua bravo Garen guarda qua shutdown better simpah questo mi sa che stai lo boostando la fidanzata anzi quello che vorrebbe essere la fidanzata guarda qua guarda qua guarda che ti faccio guarda ti ha bannato a master vabbè ragazzi quello è un altro particolare mi hanno sbannato mi hanno pure bannato cioè vogliono parole ma mi hanno sbannato mi godo la scena nel frattempo bellissime bro mi ha trollato fizz immagino oh no fizzero non ha follow upato oh ma sono due qual è il problema l'importante la riot ti banna solo se fai degli score tremendi ho fatto solo 0-10-0 sul main quello è stato ah ci sta vuoi fare un ganking bot con la palla questi san senza mana e senza mani mamma mia sei proprio sei proprio un average laner vai ah sai perché ho sbagliato le summoner perché le avevo invertite ma poi non ho più il flash e quindi nello slot del flash c'era ecco fatto e cioè capito perché ho fatto male io ho flash sulla F no? si ma quando metto ghost il ghost di solito ce l'ho sulla D ma quando c'è lo smite il ghost ce l'ho sulla F quindi avendo invertito le summoner prima avendo invertito tutto il mio cervello si è frizzato prima e non sono riuscito a capire guarda sono confuso anch'io quindi figure guardati eh capito lo diamo per buono lo diamo per buono è pure lì va bene quanto sta arrabbiata con me e mi ha preso ma si fanculo facciamoci bannare gli account allora ma no ma non mi faccio bannare ma se ti reportano tutti ti fanno allora va bene vediamo vediamo se sta gente ti reporta e fanno magari un ticket al raio dicendo ok questo è quello che devi dare allo streamer prende in uno smite e va a rubare i buff e non sta in leno e fa un cazzo vediamo e se perdiamo anche il game ah se lo vinciamo in realtà non ci fanno niente lo vinciamo va bene let's do this c'è non lo sente ciò no vado con questo i'm gonna quit mhm ha detto lei go top esiste river shen e non bannano gianna top support e non bannano questa è la stessa ma chi gioca river shen ma chi lo gioca se non dei tizi e fare dei tiktok in normal pensi la gente gioca che è vero river shen si vabbè allora gianna top con lo smite è la stessa identica cosa gianna top con lo smite dimmi qual è la differenza ma io non ho mai visto gianna top con lo smite ma l'ho vista a master e quante volte viene giocata abbastanza oddio l'ho nerfata ma la giocano ancora vedi top gang working ah si ma io bot non ci vado più ragazzi l'hanno giocata in lfl addirittura vedi in competitivo gianna top con lo smite si 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 eh e dove giocava gianna top con lo smite giocava top oppure andava in giro in tar no no andava in giro in tar in tar a diveare bot però non prendeva un cs la top cadeva tipo a 6 minuti arrivo eh dove va questo non c'ho più mana eh guarda qua si guys free win stop flame stop flame and racist fizzato un po' bottling a misurarsi contro vain vedi oh finalmente va contro alcuno alla sua portata una tipa con new meet up con smite ci ha fatto la d3 a master 500 vedi vabbè e allora bene andiamo a fare il diamond con la singed new bottling con lo smite e ghost vuoi fare la challenge se ciao io mi rompo il cazzo dopo due giorni eh vabbè anch'io don't take my jungle lo sai che è fattibile lo sai benissimo beh certo non è che se league esiste top minuto c'è devi giocare per forza come dice riot ma è cosa fa che devi insegnarlo a me eh allora io ho 100 hp visto che drift bellissimo vai faccio il tifo per te mi raccomando vado back se me con la cumoio però vai le scarpe ne faccio andiamo con queste andiamo fast anzi no qua mi sa che ci facciano le scarpe aria sento delle risate qui in lontananza percepisco grazie razzo un pazzo non te l'ho visto grazie 17 mesi caro che sta succedendo qui vai fizz vai vai fizz sciottali fai l'assassino 0 3 con 40 min quasi e fizz è riuscito a morirci alla fine fizz è riuscito a morirci alla fine cosa è che c'è la range vedi ok non è importante allora va bene vedi povero fizz povero fizz i'm con we get dived under the tower why don't risposta risposta a ogni problema ragazzi don't gioco a big hardcore mamma mia si annoia davvero tanto una silenza da pandora ottimo ma banni bomber qua che si fa lo signora vieni qua banni bomber vieni qua banni bomber eh che facciamo banni bomber vieni banni bomber vedi che sono bravissimo con le palle ci sai fare con le palle dedo sembra che ne prendi tanto durante la giornata sei del settore ah mi è entrato qualcosa nell'occhio che cosa? niente mi è entrato qualcosa nell'occhio stavo lacrimando dall'occhio sinistro anche a te succede a volte allora io ho le ciglia molto lunghe tipo oddio non le ho mai misurate ti dirò vabbè però lo sai quando le ciglia lunghe o meno no? genericamente in realtà no non so quanto lunghe le abbiano gli altri quindi magari sono nella media ok vabbè io con le ciglia lunghe mi succede un sacco spesso che mi si girino e mi entrano nell'occhio e tipo avevo sviluppato questa strategia per piangere sempre ogni volta che volevo a comando per togliermi le cose dagli occhi ok deve essere un talento molto importante mi auto convincevo di essere molto triste aprimi lo pgg guardavi le morti e le sconfitte vieni qua e una velvette c'ha il pugnalino romano e basta ci va back velvet mi dicevo snorfitz un po' di hp ok sta facendo caro lascia stare il mio fit 0-4 guarda dopo aver fatto lost chapter ha detto andiamo difensivo i danni ormai li ho e si sta facendo questo adesso è bravo è stato bravo oh no gli ho smaitato il campo ottimo facciamoci bannare facciamoci bannare guarda qua che strategia una meraviglia guarda che lei prende il red senti tu hai bannato ivern perché l'è andato in coma forse stai peggiorando mi sono distratto perché stavo leggendo la wii che stavo guardando gli scaling di daisy stavo lavorando io io dico di no bene non lo so fare però non lo so fare dios ok capisco molto interessante e me ne vado di qua ma che è tutta sta gente benvenuti ragazzi arrivo arrivo con ignite pure mi è arrivato uccidetemi di più che vedevo di adesso mi faccio un bel rely vamos guarda quanto è lunga ha timato un po' male la sua e è un pochino leggermente rubato c'è il cazzo le stiamo mandando in coma comunque con sta com no no vieni qua è rubata povera belvet non prende kill non prende campi di giungla ma va sta facendo la bella vita belvet il free game che avevo dato sta facendo sta facendo veramente la bella vita senti io c'ho rabatone in base completo beh sono un buon oggetto poi c'è letteralmente un tipo in master allora non sto scherzando Kesha gioca letteralmente così ma a master solo che è jungler e quindi non è reportabile però fa letteralmente questo quello che ho fatto io tutto il game vabbè sai di solito i jungler questo fanno quando sei la di carry magari un po' diverso vabbè sì magari non lo so me lo stai spacciando come per giustificare che fosse giù ma è tutto guardato qui ma che cazzo è tranquillo tranquillo arriva guardare due ha scelto da morte però a petto in fuori so to to attenzione eh ma ma questo maione scusa ma che stavano facendo ma chi loro aiuto 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 le cose deli che gioca a singhead e scappa aiuto dove fa flash adesso dove è andata vain ha flashato non ci credo è qua non ci credo non ci credo ha flashato davvero uno hai riuscito veramente a flashare oltre il muro ad iron due ha flashato davvero ma infatti non capisco ma che ha fatto sono troppe cose da rendere incredibili da rendere incredibili veramente in forte è veramente fortissimo gara il nostro e lo comunque tom bombadil si chiama il top laner eh ma l'hanno fatto vedere il campione vengo a prendere il blue buff grazie per averlo condiso con me x in urivern nessun problema l'ho preso io ah pensavo come ma si può ma sei sicuro che non ha preso il jungler mi sa che era di belvett ci sono camminato sopra senza volerlo allora non l'hai preso tu penso l'hai si appena fatto ah no ok mi hai convinto di averlo appena fatto ma non l'avevo fatto mettelo ok ma che sono tutte queste ward si è bugato perché avete tre item mi ha detto come funziona con tutti questi temi del jungle ma io io non l'ho comprato tanto per cominciare poi l'ho appena fatto ragazzi che state dicendo ho capito l'ho fatto l'hai fatto tu ma come non ti ricordi se hai fatto il blue buff cazzo eric face il gromp te lo sei fatto il blue buff è un caso disperato e ti chiedo pure le cose qua c'è kha'zix no ragazzi mi state drollando è difficile questo file aiuto garen tutti seguire il singed che godura ma mai abbiamo vinto garen è fortissimo what gg ione mi sa che è un po' tiltato non si rifiuta di combattere mia doverò smite completo no raga non potevo non l'ho fatto col blue buff non capisce non sa mi stanno drollando questi bastardi non ne sono sicuro andiamo a correre potremmo aver trovato potremmo aver trovato un bug che mi sono ripreso io stesso il buff tanto non sai manco se l'hai fatto tu il blue buff cioè eh vabbè se mi dicono che l'ho fatto io e poi lo ripreccio è grave no eh no eh no eh no molto male non sono soddisfatto di questa tua performance allora l'hai fatto tu solo che avendo uno smite completo sul gioco esce il blue e tu non risultanto jungler in game te lo sei ripreso quindi posso riprendermi il blue buff l'ho preso due volte comodo se ci pensi vieni qua che cringe è un'interazione sbagliata vieni qua tom bomba guarda garen bro non gliene sbatti un cazzo 9-0 grazie a me grazie a chi se no tutto grazie a deido ma nessuno mi comprende nessuno mi capisce si ricordano tutti gli eroi ma nessuno della spalla ho fatto mi è appena tutta la spalla bastardo ho fatto il test del cui è uscito 90 bene non ridere io ne avevo fatti ne avevo fatto uno però cioè quelli online non sono attendibili eh sì sì è vero 93 sì 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 quei tre sono importanti c'è la meno la differenza tra un good player e un bad player a me era uscito un po' di più però sì no no ma è vero non sono attendibili anzi ne avevo fatti due allora in uno vabbè me è uscito 132 e poi dopo ne ho fatto un altro che sembra più difficile mi è uscito 112 però non c'è valgono giusto entra salvato 12 scrive sei uno streamer che non sa giocare a minecraft cazzo cazzo quindi cazzo quindi c'è non è un guaio anche a velvet ti sei ripreso il buff hai visto è vero what the fuck ma lei l'hai preso istantaneamente cioè eh sì abbiamo bugato il gioco bro Deido non posso mettere nel curriculum che so giocare a minecraft cazzo anche Deidara non sa giocare a minecraft ma poi che ci vuole a giocare a minecraft porta porta i ragazzi non c'è che è andata a puttare portali su dota e iniziano a cagarsi addosso non comprendono forse that's too much non faccio danni ma di z sei un minecraft che non sa fare lo streamer grazie luca 04 il prime benvenuto è venuto tra noi che cazzo fa ti ha detto velvet ah cazzo ne so erano il nuovo oggetto ah ok no non me li hanno levati i punti a big arco vai capire quanto mi interessa dei punti a big arco fieri che sei uno streamer oh cazzo oh cazzo è partita la youtube poop in chat ma qua il mio chat è sempre così fieric sei uno streamer si iniziano a dire cazzate di continuo e basta mix 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 swirl oh no fieric non ti importa dei punti nella big hardcore non sei un minecraft non sei un hardcore gamer di minecraft come mio idolo lol lui si che gli interessano i punti infatti è morto otto volte però li ha rifatti poi fieric perché lui è un hardcore gamer non come te attenzione eri qui penta penta è qui è qui niente ha rubato penta fatti vola no report velvet trolli trolli vai 1v9 raga raga no non si fa così non si fa così o ci credi dall'inizio o non ci credi devi essere onesto le cose veri stratega grazie per questa per questa giocata strategica la tua assegnazione di abuso della chat di test è stata verificata e il giocatore in questione ha subito una penalità ma è reportato veramente ma non so ma 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 chi è che è stato bannato per chat testuale scusami io ne è stato ask per tipo tutto il game ed è ancora top damage io avevo è stata la partita quella in cui ho reportato nidale e zirale e anche cose e board e kaiser però c'è ha bannato uno di loro però scusa chi è che aveva che aveva scritto cioè board e kaiser non ha detto una singola parola quindi non possono aver bannato lui non può essere stato lui cioè non non ha detto un cazzo è un vecchio report quanto tempo fa non lo apro da secoli lecco sederi può eh beh il league secondo me è bugato comunque te li manda anche a caso può essere perché io qua ho riportato qui tre prima ma cioè forse zirale nidale hanno fatto qualcosa in chat mi ricordo no per chat ma vabbè pace ok godiamo doppio godimento dobbiamo provare iper la prossima volta per soltanto